Ciao ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. All'interno di questo video vi andrò a presentare un plugin che probabilmente già l'avrete sentito nominare che vi permette di andare ad importare praticamente qualsiasi cosa volete all'interno del vostro sito WordPress. Il plugin in questione si chiama WP All Import e appunto vi permette di fare questo dal 2011. È praticamente il plugin leader di settore che vi permette appunto di fare questa cosa proprio perché potete andare ad importare tutto quello che volete all'interno del vostro sito. Ad ogni modo se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video tutorial io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto altre aziende e professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito web utilizzando la piattaforma WordPress. Quindi naturalmente noi abbiamo già avuto modo di utilizzare tantissime volte i plugin che vi vado a presentare tra pochissimo a schermo quindi sono sicuro insomma che apprezzerete questo video anche perché vi tornerà sicuramente di aiuto anche per i vostri progetti online adesso o in futuro. Dopo questa lunga introduzione ragazzi scusatemi se mi sono dilungato un po' troppo comunque adesso andiamo proprio alla parte pratica perché vi vado a presentare un attimo il plugin WP All Import ma poi ve lo vado anche ad installare su una mia installazione demo di WordPress che ho preparato appositamente per registrare questo tutorial per voi così vedete un po' tutte le impostazioni che vi mette a disposizione il plugin e potete decidere da voi se andarlo ad utilizzare per i vostri progetti online. Bene, detto questo dirai di passare subito alla parte pratica di questo video. Bene ragazzi, come vi dicevo il plugin di oggi si chiama appunto WP All Import il plugin è quello che vedete qui a schermo naturalmente siamo sempre su wordpress.org sulla sezione dei plugin il plugin attualmente è stato installato su oltre 100.000 installazioni in WordPress quindi appunto un plugin molto popolare hanno ricevuto recensioni ad una singola stella ma perché il plugin è disponibile anche nella versione diciamo a pagamento quindi la versione pro e certi utenti diciamo che si aspettavano di andare ad importarsi qualsiasi cosa in modo completamente gratuito questo è quello che fa il plugin ma per andare ad importarsi diciamo determinate cose magari richiede la versione pro quindi quella a pagamento comunque chiusa questa parentesi vi posso garantire che per la maggior parte di voi già nella versione gratuita il plugin vi permette di andare ad importarvi insomma probabilmente le cose di cui avete bisogno detto questo comunque se poi avete bisogno di andare ad importare invece cose avanzate la versione pro vi posso assicurare che è davvero ottima e realizzata davvero in modo super professionale detto questo questo per quanto riguarda WP All Import gli sviluppatori comunque hanno realizzato anche un altro plugin che si chiama WP All Export che come potete intuire dal nome vi permette di andare ad esportarvi dei contenuti quindi magari le pagine, gli articoli, i file multimediali, i commenti e così via del vostro sito per poi andarveli ad importare magari su un altro sito WordPress naturalmente vi permette anche di andare ad esportare ad esempio i prodotti di WooCommerce gli ordini che avete ricevuto e così via se non sbaglio questa è una funzionalità ancora diciamo a pagamento quindi disponibile se acquistate la versione pro ad ogni modo qui potete andare a leggervi tutta la descrizione del plugin anche questo plugin come vedete è stato installato su oltre 90.000 installazioni in WordPress e per lo più hanno ricevuto recensioni a 5 stelle ora quello che voglio fare all'interno di questo video è prendere un sito demo che naturalmente è situato all'interno dei nostri server perché se non lo sapete insomma noi offriamo proprio dominio e hosting quindi se lo dovete ancora andare ad acquistare insomma lo potete acquistare da noi se vi fa piacere trovate il link qui sotto in descrizione comunque questo è il nostro pannello ora vado sul mio sito demo che ho preparato appunto per realizzare questo video e qui vedete che ho semplicemente importato un template appunto di WooCommerce quindi questo è il nostro negozio questi qui sarebbero i nostri prodotti e così via quello che voglio fare è semplicemente adesso andare ad esportarmi tutte le pagine di questo sito e poi me le vado ad importare utilizzando il plugin VP All Import quindi innanzitutto andiamo sulla nostra bacheca quindi la bacheca di WordPress e naturalmente per andare ad esportarci tutte le pagine del nostro sito andremo ad utilizzare il plugin VP All Export quindi mi basta semplicemente andare qui su plugin aggiungi nuovo e sulla barra di ricerca naturalmente andrò a scrivere VP All Export il plugin sicuramente mi apparirà come primo risultato eccolo qui me lo vado ad installare e ad attivare su questo mio sito demo successivamente vedrete che andare ad esportare insomma i contenuti è davvero molto molto semplice e tutto insomma realizzato in modo altamente professionale bene ora che abbiamo installato e ad attivato il plugin è stata aggiunta la voce All Export qui sulla barra laterale di sinistra ebbene semplicemente andando a cliccarci sopra adesso qui il plugin ci chiede cosa vogliamo andare ad esportare di questo sito nel mio caso vado ad esportare le pagine abbiamo detto e qui adesso praticamente il plugin ci dice che 9 pagine sono pronte per essere esportate vi consiglio di andare a cliccare su questo secondo pulsante perché qui potete andare a diciamo filtrare cosa volete andare ad esportare del vostro contenuto ad esempio di queste pagine io voglio andare ad esportarmi praticamente tutti i contenuti e per fare questo devo andare a selezionare o meglio a cliccare su Add All per andare ad aggiungere diciamo tutti i tag meta presenti sulla pagina vi consiglio anche di andare a cliccare sulla voce Preview per vedere appunto un'anteprima di tutte le colonne che vengono create all'interno del vostro file CSV infatti qui potete vedere che c'è l'ID della pagina il titolo, il contenuto, la breve descrizione poi qui come vedete c'è il permalink l'immagine contenuta all'interno della pagina e così via importante che andate ad esportarvi proprio tutte diciamo le colonne delle vostre pagine quindi semplicemente cliccate su questo pulsante una volta fatto questo vi basta semplicemente andare a cliccare su Continua o comunque potete andare a personalizzarvi tutto tramite questa colonna qui di destra quindi qui naturalmente trovate tutti i filtri con i relativi campi comunque per il momento io vado a cliccare su Continua qui vi consiglio semplicemente di lasciare tutte queste impostazioni così come sono di default perché queste diciamo sono impostazioni ottime sia che voi avete magari un server di hosting condiviso quindi magari un po' più lento o anche insomma se avete un VPS o un vostro server dedicato queste impostazioni vanno benissimo così semplicemente clicchiamo sul pulsante di Continua e adesso come vedete il plugin in pochissimi istanti è andato a generarci i file di download qui naturalmente per andare a scaricare i file ci basta cliccare qui su CSV e come vedete ecco qui che adesso il file CSV è stato scaricato se lo vado ad aprire magari con LibreOffice o insomma con Office se avete Windows qui come vedete sono presenti tutte le pagine che attualmente ho creato all'interno del mio sito quindi ancora troviamo l'ID della pagina il titolo, la descrizione breve, la data di quando è stata pubblicata la tipologia di pagina, il permalink e così via qui come vedete naturalmente all'interno di questo sito ho pochissime pagine ma perché questo naturalmente è un sito demo voi naturalmente avrete più pagine da scaricarvi detto questo ora che le pagine sono state scaricate posso semplicemente tornare su plugin e tranquillamente posso andare ad eliminare quindi prima vado a disattivare il plugin WP All Export e poi se volete insomma lo potete anche proprio andare ad eliminare dal vostro sito web adesso naturalmente andiamo sempre su aggiungi nuovo e ci andiamo ad installare il plugin WP All Import quindi lo cerchiamo sempre dalla barra di ricerca e lo andiamo ad installare all'interno del nostro sito web quindi tutto molto molto semplice naturalmente una volta che avremmo installato anche il plugin WP All Import ovviamente lo andiamo ad attivare ma adesso vado proprio ad eliminare le pagine che ho creato all'interno di questo sito quindi andiamo proprio su pagine e adesso proprio vado a selezionare tutte le pagine e le vado completamente ad eliminare quindi le sposto nel cestino e poi me le vado ad eliminare quindi vado sul cestino e le vado ad eliminare definitivamente quindi clicchiamo su applica e come vedete tutte le pagine sono state eliminate ovviamente adesso se vado a vedere l'home page del mio sito sicuramente vedrete che ecco qui tutte le pagine sono scomparse quindi adesso per andarle a ripristinare naturalmente abbiamo il plugin WP All Import andiamo a cliccare su All Import appunto come abbiamo fatto con il plugin precedente qui semplicemente andate a caricare il file che avete esportato precedentemente con il plugin WP All Export quindi clicchiamo qui e come vedete una volta che il file sarà stato scaricato qui praticamente il plugin vi dà due opzioni quindi andare a creare proprio nuovi diciamo elementi all'interno del vostro sito web oppure di andare ad aggiornare magari degli elementi che sono già presenti all'interno del vostro sito nel mio caso li vado ad aggiungere perché proprio le pagine le ho eliminate dal mio sito web quindi qui Create New quindi Crea Nuovo selezioniamo Pagine andiamo allo step numero 2 cliccando su questo pulsante blu e adesso praticamente il plugin ci fa vedere tutti i campi che sono presenti all'interno del nostro file CSV naturalmente questo è per fare un attimo una piccola verifica e se volete qui potete anche andare a filtrare diciamo tra i file che è stato appena caricato nel mio caso vado semplicemente ad importarmi tutte le pagine così come erano prima quindi vado a cliccare su questo pulsante per procedere allo step numero 3 e ora questo step ragazzi è uno step davvero molto importante perché qui dovete andare a definire praticamente ad esempio il titolo della pagina il contenuto e così via per andare a definirlo semplicemente dalla colonna qui di destra dovete prendere ad esempio il titolo e trascinarlo su questo apposito spazio quindi nel mio esempio vado a prendere appunto il tag title premo sul tasto sinistro del mouse e mi sposto questo tag all'interno appunto dove dovrebbe andare il titolo quindi all'interno di questo campo appunto per quanto riguarda il contenuto quindi va inserito qui dentro anche qui prendiamo il tag content e lo andiamo a trascinare all'interno di questo campo se volete potete andare a cliccare su preview per andare a vedere un'anteprima quindi praticamente qui potete vedere come si visualizza la pagina o meglio potete andare a vedere che cosa viene inserito all'interno della vostra pagina una volta che l'avete importata ovviamente per quanto riguarda le immagini qui praticamente io vado a scegliere utilizzo le immagini attualmente presenti sulla libreria multimediale e qui naturalmente andate sulle immagini quindi dove c'è l'url relativo all'immagine quindi vado ad esempio a trovarmi una pagina che ha delle immagini appunto come anteprima vado a prendermi questo tag e me lo vado a trascinare appunto all'interno di questo campo quindi prendo il tag e me lo trascino qui dentro una volta fatto questo ragazzi naturalmente qui trovate diciamo diverse schede che naturalmente le dovete andare a popolare con i relativi tag quindi fate la stessa cosa anche per tutte diciamo queste schede come vedete ce ne sono davvero tante comunque una volta che avete fatto questo lavoro poi siete sicuri che l'importazione avrà con successo insomma vedete che ci sono davvero tanti i campi che adesso ovviamente non li posso andare a selezionare tutti perché ci vuole diverso tempo ma comunque questa è la procedura che dovete seguire per andare a diciamo mappare tutti i vostri tag con i contenuti all'interno del vostro sito quindi una volta fatto questo andiamo a cliccare su questo pulsante per continuare qui il plugin ci dice che andrà a crearsi delle nuove pagine con un id unico quindi adesso vi consiglio di andare a cliccare su autodetect che come vedete insomma vi andrà ad importare i tag in automatico una volta fatto questo lasciate tutto così come di default se volete potete andare a cambiare queste cose ma diciamo che è facoltativo e clicchiamo sempre sul pulsante continua qui ci dà diciamo l'ultima possibilità per andare a controllare che tutto sia corretto diciamo che per noi va bene così e andiamo a cliccare su conferma e praticamente adesso il plugin va proprio a ricreare le pagine all'interno del mio sito come vedete adesso l'importazione è avvenuta con successo e se vado naturalmente qui su pagine quindi come avete visto insomma l'importazione è avvenuta con successo ovviamente ragazzi queste pagine non sono state importate per intero ma questo perché appunto per risparmiare del tempo non ho praticamente collegato tutti i campi del file csv e non li ho mappati tutti all'interno del plugin wp all import ad ogni modo se andiamo qui su all import grazie a questo plugin come avete visto potete andare ad importarvi davvero tantissime cose all'interno del vostro sito sulle impostazioni insomma vi consiglio di lasciare tutto così come di default e mi raccomando comunque ragazzi di andarvi ad esportare tutti i contenuti che volete andare poi ad importarvi magari su un altro sito utilizzando sempre il loro plugin wp all export proprio perché così siete sicuri insomma che il file csv venga insomma creato in modo ottimale e con questo plugin poi riuscirete ad importarvi tutto con molta più facilità bene ragazzi se non conoscevate il plugin wp all import come avete visto è un plugin davvero molto potente che vi permette di andare ad importare qualsiasi cosa all'interno dei vostri siti wordpress se non lo conoscevate ecco sono sicuro che vi tornerà di grande aiuto per i vostri progetti online ancora adesso o in futuro naturalmente se con questo video vi sono stato di aiuto vi chiedo quantomeno di lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate insomma a far vedere questo tutorial a più persone possibili e naturalmente se volete lo potete anche andare a condividere sui vari social network tra parentesi se non siete ancora iscritti al nostro canale youtube o se non siete ancora iscritti alla nostra pagina facebook mi raccomando iscrivetevi così riceverete delle notifiche ogni qualvolta andrò a rilasciare nuovi video tutorial simili a questo che state vedendo proprio adesso che penso vi possano tornare di aiuto insomma con i vostri progetti online inoltre mi raccomando che se avete dubbio delle domande su quello che vi ho spiegato all'interno di questo tutorial potete scrivermi il vostro commento lasciandolo utilizzando il box che trovate sotto a questo video naturalmente io e il mio team leggiamo sempre tutti i vostri commenti e cerchiamo insomma di fare il possibile per rispondere sempre a tutti naturalmente ragazzi tempo permettendo perché grazie a dio insomma riceviamo davvero tantissimi e tantissimi commenti da parte vostra non mi resta altro che salutarvi grazie mille se siete arrivati a vedere alla fine di questo tutorial per ora vi saluto ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video quindi ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo tutorial